Mi ha picchiato con il manganello, per questo ho preso il coltellino che tenevo in tasca e l'ho colpito. Mi dispiace, non volevo, ma ero spaventato. Sono la dichiarazione a sorpresa, in sede di convalida dell'arresto, ora al vaglio degli inquirenti, di Kamel Fares, il ventunenne egiziano arrestato per aver accoltellato lunedì pomeriggio il capotreno Rosario Ventura, che lo aveva costretto a scendere alla stazione di Rivarolo da un treno regionale, su cui era salito con la compagna sedicenne senza il biglietto per raggiungere Bolzaneto. Le dichiarazioni dell'indagato sono molto diverse dalle versioni fornite alle ferroviere genovese, che ha raccontato di essere stato spintonato, colpito con degli sputi e accoltellato con quattro fendenti, solo perché aveva costretto i due a scendere dal treno. La discrepanza fra le due versioni ha convinto il jeep Carle Repetto a sospendere la decisione di confermare l'arresto, come richiesto dal PM Monteverde. Determinante per arrivare alla verità saranno le immagini delle telecamere a bordo del treno e della stazione di Rivarolo. L'interrogatorio è avvenuto nel carcere di Marassi ed è stato molto lungo. Il legale dell'imputato, l'avvocato Barbara Squassino, non conferma e non smentisce la versione dell'arrestato. Non posso parlare. Fares è accusato di lesioni e violenza privata. Le stesse accuse mosse alla sua fidanzata sedicenne, che era con lui.